Ogni tanto si posizionano qui dei furgoni e quindi ci domandiamo come mai, perché non ci sembra una cosa normale. Erano diventati l'incubo dei residenti di Via Firenze ad Arezzo. Spacciavano infatti marijuana e cocaina all'interno di un furgone parcheggiato nella zona, diventando così in poco tempo punto di riferimento per molti giovani assuntori. A finire in manette quattro cittadini albanesi arrestati dai carabinieri di Arezzo con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro, secondo quanto ricostruito dai militari, avevano ideato un sistema alquanto ingegnoso e soprattutto itinerante. Per spacciare droghe infatti utilizzavano come appoggio un furgone Ford Transit parcheggiato in Via Firenze e adibito ad ufficio, all'interno del quale venivano smistate le richieste. La sostanza stupefacente invece veniva tagliata e confezionata in singole dosi all'interno di un'abitazione sempre in Via Firenze, nella quale dimoravano gli altri tre arrestati. Via vai qui ce n'è tanto, quindi non si sa se... cioè io almeno di preciso non lo so, però ogni tanto sì, c'è qualche furgone, qualche macchina che sta per periodi e poi sparisce. Ad attivare un servizio di osservazione e controllo, che ha portato a ricostruire l'intera vicenda e individuare i responsabili, le numerose segnalazioni di genitori e residenti preoccupati per il via vai che si era creato nella strada. Quindi non è facile sapere se c'è qualche cosa di strano. Sì, qualche giovane, non troppo per la quale, qua in fondo alla strada, vedo che ogni tanto si muove. Però da questo poi a dire qualche cosa di più importante, ovviamente la strada è ancora lunga. Il materiale raccolto ha permesso ai militari di richiedere e ottenere dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Arezzo, i decreti di perquisizione domiciliari e personali. All'interno dell'abitazione e del furgone sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina e 105 grammi di mariguana, già suddivisa in dosi, pronte per la vendita. Sostanze da taglio, bilancini e la somma contante di circa 600 euro, ritenuta a provento delle attività quotidiane di spaccio.